E' arrivato Burian anche ad Arezzo, con lui gento velido siberiano e temperature a picco. La minima registrata in città nella giornata di lunedì, un vero e proprio giorno di gelo in cui le temperature non sono mai salite sopra lo zero, è stata infatti di meno 5,9 gradi. A preoccupare maggiormente resta comunque il rischio ghiaccio. Sono infatti numerosi casi di aretini finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo per delle cadute. Ieri mattina abbiamo avuto, soprattutto nelle prime ore del mattino, un certo numero di signori sono arrivati appunto per scivolate sul ghiaccio e spesso con lesioni anche osse, prevalentemente al polso, al gomito, alla caviglia, ecco perché quando si scivola si cerca di riprendersi con la mano e quindi le prime segmenti che sono interessati sono questi. Ecco, altri disagi dovuti a questa notarima al tempo e invece non ci sono stati? No, direi per il momento no, malori o malessere dovute al freddo no, non ci sono stati, siamo un po' preoccupati soprattutto per i senza fissa dimora, ecco e spesso cercano rifugio anche in ospedale e quindi con queste notate qui sicuramente avranno un disagio maggiore. Per ora il disagio della popolazione si è limitato alle cadute da ghiaccio. Ecco, la notà di freddo perdurerà anche per i prossimi giorni, quali sono i consigli che possiamo dare alla cittadinanza? Ma consigli generici si danno sempre in queste occasioni, ecco, non uscire l'ore più freddo ovviamente soprattutto per le persone anziane e le persone che hanno problemi respiratori. Per loro direi che è assolutamente essenziale rimanere al caldo.